Ed eccoci qui, ancora con il guru. Parliamo di un argomento che vi dà molto fastidio, la cordigliera, come vedo che la chiamate. La cordigliera sarebbe la cordigliera delle ande, una catena montuosa. Voi intendete la cordiera del rollante, che vibra, vi dà fastidio. Vibra e vi dà fastidio. Bene, questo non lo potete eliminare. E' inutile che impazzite, andate e aprite i forum, fate le domande, ma mi vibra, picchia sul tom e mi vibra la cordiera. Vibrerà sempre. Voi non lo sentite quando suonano nei video i professionisti, perché questi video sono filtrati, ci sono delle amplificazioni. C'è tutta una cosa dietro, che è inutile che impazzite a cercare le accordature strambe, altri tiranti, tiro quelli di lato, tiro quelli davanti. Potete tirarvi quello che volete, la cordiera vibrerà sempre. E anche mettere pezzi di carta, cambia il suono, la cordiera non vibra più e il rullante suona così. Ecco qua. Quindi, questo problema ce l'hanno anche i professionisti. Tutti ce l'hanno. Ma non è un problema, è la batteria che è fatta così. Vi dovete anche un po' rassegnare. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Accordo.it Grazie. Grazie.